ben trovati oggi vi voglio parlare come diventare allenatore di calcio diventare allenatore di calcio richiede passione impegno e una solida formazione bisogna seguire un percorso di studi adeguato acquisire esperienza pratica e continuare a sviluppare le proprie competenze sono elementi fondamentali per lavorare nel mondo del calcio e avere successo in questo settore è importante avere una mentalità aperta essere pronti a imparare dai successi e dai fallimenti ad adattarsi alle sfide che si presentano lungo il percorso si deve acquisire una solida conoscenza del gioco studia le tattiche le strategie e le regole del calcio una volta completata la tua formazione puoi valutare diverse opportunità di lavoro nel settore puoi lavorare nelle squadre giovanili nelle scuole calcio nelle accademie di calcio o persino nelle squadre professionistiche inizia ad accumulare esperienza pratica lavorando come assistente allenatore o allenatore nelle squadre locali questo ti permetterà di migliorare le tue competenze e costruire la tua reputazione nel settore inoltre potresti considerare l'opportunità di lavorare come allenatore indipendente offrendo servizi di formazione personalizzati ai giocatori questo ti darà la possibilità di lavorare con individui motivati e aiutarli a sviluppare le loro abilità nel calcio visita il sito posizioni aperte punto com